Ciao amici, benvenuti nel mio canale, oggi condividerò un nuovo video per voi. Oggi condivideremo per voi una nuova immagine di Sila Turkoglu e Ali Libraim. L'amore ha il potere di riempire i nostri cuori di calore e gioia, facendoci desiderare la presenza di un altro significativo in ogni momento della nostra vita. L'amore dell'attrice turca Sila Turkoglu per Ali Libraim Cheyan è evidente dalla dichiarazione di Ali Libraim Cheyan quando ha confessato che non voglio dormire. Una simile affermazione è una buona prova dei sentimenti di Sila Turkoglu per il suo partner e della profondità del legame. Riflette il desiderio di intimità e il conforto di condividere insieme i momenti privati della vita quotidiana. Come personaggio pubblico, la vita privata di Sila Turkoglu è sempre stata oggetto di curiosità tra i suoi fan e i media. Tuttavia, la sua decisione di esprimere apertamente i suoi sentimenti per Ali Libraim Cheyan consente ai suoi fan di vedere l'amore tra loro il prima possibile. Il legame condiviso da Sila Turkoglu o Ali Libraim Cheyan risuona in molti in quanto incarna l'idea di trovare conforto e felicità in compagnia di una persona cara. La loro storia d'amore è fonte di abbandono per gli altri e ci ricorda il potere dell'amore di portare gioia e integrità nelle nostre vite. È importante ricordare che il mio amore è un'esperienza profondamente personale che può influenzare profondamente le nostre vite e plasmare le nostre scelte. Per Sila Turkoglu, la sua dichiarazione rivela l'importanza dell'esistenza di Ali Libraim Cheyan nella sua vita e che lei vuole che lui sia con lei in ogni fase del percorso. Grazie per aver guardato il tuo video.